Grazie al Presidente del Corvo, grazie di cuore e grazie al Sindaco. Vorrei invitare Gianluca Alfonsi un attimo qua sul palco. Gianluca non in veste istituzionale ma in veste organizzativa perché Gianluca Alfonsi, Presidente della Commissione Cultura, ha lavorato non poco per allestire questo premio. Abbiamo fatto nottate insieme, Gianluca, nel senso come organizzatori di questo premio insieme a tanti altri amici, al grande Davide Taricone, eccetera. Abbiamo parlato di queste due serate, Gianluca, però sono successe altre cose in questi giorni. Ti chiedo e ti uso per raccontarci un po' cosa è accaduto oltre queste due serate perché mi sembra giusto dare un po' di visibilità anche a ciò che è stato extra dopo cena. Sì, intanto buonasera a tutti, saluto anch'io il Presidente, tutte le autorità presenti e saluto te Paolo e ti ringrazio pubblicamente per come è magistralmente organizzato in tempi brevissimi una kermesse fantastica. È stato facile con tante brave e disponibili persone che ho incontrato in comune e in provincia. Devo dire che oltre alle due serate, quindi agli ospiti che ci sono stati, quelli che adesso saliranno su questo palco, ai premiati, ci sono state delle attività diciamo collaterali, importantissime e voglio dire pubblicamente e fortemente grazie a Davide Taricone perché è stato lui a volerle, a idearle e a realizzarle. Quindi gli voglio dare veramente il merito e il plauso perché è stato un ragazzo fantastico. D'altronde con il cognome che portava non poteva, diciamo, che adoperarsi in questo modo. Sono state iniziative bellissime e soprattutto riuscitissime. Abbiamo avuto in una scuola elementare numerose presenze di bambini con una dimostrazione, c'erano ad esempio il cane pastore abruzzese che è simbolo di questa storia. C'erano tantissimi animali, ci sono stati anche, abbiamo messo a disposizione come provincia degli animali imbalsamati per far capire quali erano le specie, i volatili, i mammiferi ed altri. Quindi un'attività anche didattica, formativa per sensibilizzare i nostri giovani verso la natura. La conoscenza e quindi il rispetto della natura. Credo che questo è quello che Pietro anche volesse per chi l'ha conosciuto. Questo abbiamo fatto e ringrazio veramente Davide per quello che ha fatto. Riuscitissima come iniziativa. Poi credo che abbiano partecipato alcune, un gruppo di ragazzi e di ragazze che si sono... E credo che se c'è una rappresentante la chiamiamo perché le consegniamo un ricordo di questo evento. Vorrei che salisse sul palco perché si sono adoperate alla cremente e hanno veramente dato l'anima perché riuscisse bene. Ecco, la salutiamo. Buonasera a tutti. Buonasera. Complimenti per il lavoro, soddisfatti di quello che è accaduto in questi quattro giorni, no? Sì, siamo molto soddisfatti perché abbiamo avuto veramente un gruppo numeroso di bambini. Anche noi, come tutti voi, ci uniamo ai ringraziamenti della provincia, dell'amministrazione comunale, del corpo della forestale e di tutte le persone, proprio ad una ad una, che ci hanno aiutato a realizzare questo bel progetto. Soprattutto ringrazio Davide perché ci ha coinvolto in questo percorso bellissimo e che è stato veramente un grandissimo esempio di solidarietà e proprio di riazionarsi con le persone e poter realizzare quello che Pietro forse... Avrebbe voluto. Avrebbe voluto. Tutto è stato organizzato pensando continuamente a far solo ed esclusivamente ciò che Pietro avrebbe voluto. Speriamo di esserci riusciti. Consegniamo questa targa. Gianluca Alfonsi consegna alla nostra amica e la targa che va a tutti coloro che hanno organizzato questi momenti collaterali. Grazie ancora. Grazie a tutti. Grazie. Gianluca, ti prego di rimanere qua sul palco e condurremo insieme in questo prossimo momento che è un momento molto importante perché è il momento di consegnare il primo premio, o meglio uno dei quattro premi, uno dei quattro premi che è il premio per l'impegno personale. Ovvero è stata voluta selezionare un'associazione che abbia fatto delle cose per questo territorio e una persona fisica che abbia fatto qualcosa nel tema che volevamo sviluppare. Ebbene, per l'impegno personale premiata in questa prima edizione con un affetto ma non rumoroso, veramente roboante, grazie a Dacia Maraini. Grazie di cuore a Dacia Maraini che io ho incontrato in varie presentazioni del libro, ogni volta di libro, una volta è un'emozione, ogni volta... Grazie Dacia, è un piacere enorme. Allora, un impegno personale per una vicenda che ci vuoi raccontare tu? Volevo dire due parole su Taricone perché io non l'ho conosciuto personalmente ma ho degli amici carissimi che hanno lavorato con lui. Uno è Riccardo Milani, il regista di Tutti i pazzi per amore, che poi è il mio vicino di casa a Pesca Sera, e Piero Degli Esposti che l'ha avuto proprio vicino. Tutti mi dicono che era una persona veramente di una sensibilità straordinaria, molto attento alle questioni che riguardano il territorio, l'ambiente, gli animali. E questo me l'ha fatto sentire caro, anche se io non l'ho mai conosciuto di persona, ma adesso mi fa piacere che abbiate fatto questo premio in suo nome. Allora, il Presidente parlava del tuo rapporto... Dacia, la letteratura in qualche modo può promuovere, deve promuovere un territorio, può essere di aiuto a smuovere un po' queste meravigliose rocce, secondo te? Ci può provare, non è la sola cosa, però in certi momenti è più efficace della pubblicità, perché la pubblicità in un certo senso poi è talmente evidente, sfacciata, che finisce per essere incredibile. Invece la letteratura cerca delle strade più profonde, più sotterranee, va in profondità, e certe volte riesce a toccare la fantasia, l'immaginazione, i sensi e quindi comunicare qualche cosa che riguarda l'ambiente. Cioè, bisogno di proteggere l'ambiente, perché altrimenti noi saremo sopraffatti, noi saremo tutti avvelenati, per esempio, dai nostri stessi rifiuti, no? Il problema dei rifiuti è il problema del futuro, non sappiamo come eliminare i rifiuti. Cioè, dobbiamo trovare un modo intelligente di utilizzare, perché i rifiuti si possono riutilizzare per procurare energia, per esempio, no? Però per fare questo bisogna, per esempio, tutti i cittadini si devono intelligentemente mettere a fare il lavoro di distinguere un rifiuto dall'altro e di fare la differenziata. Quindi, piano piano, da questo si arriva poi a essere... Insomma, non è soltanto gli amministratori, bisogna che i cittadini... Che ognuno prenda il tolo per le corna, così come si dice, e vada avanti. Allora, Gianluca Alfonsi, come Presidente della Commissione, ha deciso di assegnare questo premio. Leggiamo prima la motivazione, poi magari ci racconti un po' cos'è accaduto realmente. Vai. Sì, prima di leggere la motivazione, Paolo, io consentimi di ringraziare Dacia, che tra l'altro è mia concittadina, perché è cittadina onoraria di Gioade Marsi, ormai da cinque anni, anche se vive a Pescasseroli, quindi da concittadino a concittadino. Sono ben fiero questa sera di testimoniargli io, a nome della provincia, questo premio. E voglio ringraziarla, perché credo che la provincia abbia voluto, anche con questa testimonianza, cara Dacia, dirti grazie. e lo ha detto il Presidente prima, lo sottolineo io, e lo faccio anche come Presidente della Commissione Cultura, per un grazie di cuore per tutto quello che fai per la cultura. In momenti di crisi, di tagli vistosi al settore, vedo ti adoperi con il Teatro di Gioia, diceva prima Paolo, portava l'esempio di come fosse difficile. Alla Dacia, io ricordo quando inaugurò il Teatro di Gioia, 11 anni fa, disse e scrisse che era più facile far salpare una nave sulle rocce, piuttosto che superare gli asti e gli odi di chi non vuole bene al proprio territorio. Dacia ci è riuscita a far salpare la nave che era il Teatro di Gioia e quindi simbolicamente rappresentava la cultura. Ma credo superare ancora gli asti e gli accredini che non vuole bene al territorio, è una sfida che dobbiamo superare e dobbiamo vincere. Quindi ringrazio Dacia per tutto quello che fa, per la nostra cultura, come testimonial soprattutto del nostro territorio, della Marsica, della provincia dell'Aquila e dell'Abruzzo tutto. Grazie Dacia. Motivazione del premio per questa sezione, per l'impegno personale. Allora, a Dacia Maraini, per una volta la faula cambia finale, il lupo diventa buono ed in cerca dell'aiuto dell'uomo. L'incontro avviene il 15 settembre 2010, quando una lupetta denutrita e disidratata si imbatte nella scrittrice che le salva la vita. Splendida testimonianza, l'incondizionato amore e il rispetto per gli animali. Grazie. Allora, cos'è accaduto Dacia? Cos'è accaduto? Raccontaci questa favoletta. Io sto un po' fuori del paese, vicino ai boschi e mi è capitato tante volte di vedere i lupi, quindi li conosco. Insomma, so che possono essere anche crudeli, però sono ormai in minoranza assoluta, quindi bisogna proteggere. Anche loro hanno diritto di vivere e di godere dei boschi. Mi sono trovata davanti questa lupetta, ho capito subito che era una lupetta, o che era un lupo, insomma, anche se era un po' piccolo. E ho detto, ma che fa qua? Non capivo che cosa facessero in mezzo alla strada. E poi ho visto che stava con la coda fra le gambe, che girava con l'aria un po' disperata, ecco, si vedeva che era persa. Allora ho chiamato immediatamente il parco, che hanno mandato dei tecnici e l'hanno presa, in effetti stava morendo disidratata. Probabilmente si era persa, oppure era stata cacciata dal gruppo. Questo non si sa bene, perché alle volte gli animali hanno delle strane logiche, no? Che quando un animale si avvicina troppo agli uomini, poi viene rifiutata dal suo stesso gruppo. Può darsi che sia questa la ragione. Però, ecco, per fortuna siamo riusciti a prenderla e si è ripresa. Non voglio esagerare che andrà a comprare e leggere un tuo libro, ma sicuramente parlerà bene di te, parlerà bene di Dacia Maraini. Grazie. Grazie a voi. Consegniamo ancora questa targa e poi abbiamo ancora tanti premi e tante cose da fare, quindi andiamo avanti con questa piacevole serata. Grazie a Gianluca Alfonsi, grazie a Dacia Maraini. Signora Dacia, grazie ancora, grazie ancora. Bene, altra sezione e andiamo avanti dopo questa...